Cambiamo argomento, Treviglio una zona di antica cultura agricola, convertitesi però rapidamente all'industria e ora è diventata la capitale europea dei nuovi strumenti per lavorare la terra. Andata e ritorno con la SAME. Vediamo il servizio. Quinti nel mondo, secondi in Europa con una quota di mercato nei trattori del 14%, arriva tra i più grandi un marchio italianissimo che ora si dà un accento tedesco, SAME Deutzfahr Gruppe è la nuova denominazione, illustrata in questa conferenza stampa. Ribaltando la tendenza che vede aziende e marchi italiani rilevati da gruppi esteri, la SAME Trattore di Treviglio ha acquistato la Deutzfahr, produttrice leader in Germania nelle macchine agricole. Più di mezzo secolo di storia per la SAME, rimasta di proprietà della famiglia del fondatore, Francesco Cassani. Nel 72 iniziano le acquisizioni, prima la Lamborghini Trattori, poi la Svizzera Urliman. Uno sviluppo interrotto sul finire degli anni Ottanta dalla crisi del settore delle macchine agricole. Anche la SAME deve ristrutturare e tagliare gli organici. Dal 93 la ripresa. Il fatturato passa da 504 a 630 miliardi fino ai 1600 miliardi del 95 dopo l'acquisizione della Deutzfahr. In crescita l'utile da 13 a 50 miliardi e si torna anche ad assumere. Dal minimo di 1185 dipendenti nel 93 si sale a 1365 per raggiungere i 2764 occupati negli stabilimenti del gruppo, oltre a Treviglio anche in Germania e Polonia. Proprio est europeo e India sono i mercati più interessanti per il gruppo, che l'anno scorso ha venduto complessivamente più di 24 mila trattori.